Quando la vedo non riesco a non pensare a un orango, disse così Roberto Calderoli. Luglio del 2013, durante un festone della Lega, una festa nazionale, qualcosa del genere, erano a Treviglio. Migliaia di persone e tutti giù a ridere, ad applaudire. Che simpatico Calderoli. Erano gli anni in cui Cécile Chieng era la vittima preferita dei leghisti. L'esponente del governo Letta stava tutti i giorni sotto l'occhio dell'astuta e altissima critica dei padani. Non per niente Salvini, proprio in quei giorni, disse di lei che era molto pericolosa la Chieng. In realtà era banalmente nera, anche se sembra così faticoso scriverlo. E qualche giorno fa Calderoli è stato condannato a un anno e sei mesi dal Tribunale di Bergamo, in primo grado. E sapete come si è difeso? Sentite. Non ricordo parola per parola quanto detto, ma il mio intermento, aveva dichiarato Calderoli lo scorso luglio in udienza, era la critica politica al governo Letta. La critica politica. Anche per un certo divertimento delle persone presenti, con toni leggeri. Un certo divertimento. Dalle trascrizioni vedo che non ho mai usato la parola Orango, bensì Oranghi, riferendomi a tutto il governo. Ah beh, allora. Intendevo dire che si muovevano come elefanti in una cristalleria. Se avessi usato quest'altro paragone, oggi non saremmo in quest'aula. Ha pensato elefanti e gli è uscito Orango. Insomma, si è espresso male. Un po' è stato anche frainteso. Siamo alle solite. Feroci. E poi vigliacchietti. Funziona sempre così. Ah, a proposito. Calderoli è il vicepresidente attuale del Senato, del governo del cambiamento. Evviva. A settembre del 2017, il sindaco leghista di Pontivrea, Matteo Camiciotoli, invece, in un lungo e altissimo posto su Facebook, augurava Laura Boldrini, che nel frattempo è diventata lei la nemica numero uno. Perché è donna, e sì, è vero, non è nera, però è fortemente antirazzista e quindi va bene uguale. Le aveva augurato, c'era stato uno stupro a Rimini in quei giorni, di ospitare a casa sua gli stupratori. Così, aveva scritto, magari le mettono il sorriso. Un bel augurio di stupro. Sai la novità, tra l'altro, sai che fantasia. Ieri è stato condannato, ma va? E sapete come si è difeso? Ecco qui. Non inciterei mai allo stupro nella mia vita, anzi ritengo che per gli stupratori occorra l'ergastro. Volevo solo fare una critica politica. Una critica politica? Se lei è così favorevole a un'immigrazione incontrollata, che include anche i delinquenti, allora forse ospitali le avrebbe fatto piacere. Le avrebbe fatto piacere. Un sorriso politico, ha detto così. Sindaco Colleghista. Per questo non mi sono scusato durante la trasmissione della Zanzara. Cioè, perché, dice, era solo una contestazione, nei confronti di idee con cui non sarò mai d'accordo. Per me le politiche messe in atto da Boldrini, che da Presidente della Camera non si capisce bene che politiche possa mettere in atto, e da chi sostiene la sua posizione, sono uno dei fattori che hanno portato all'accoglienza discriminata. E se vuoi l'immigrazione incontrollata devi mettere in conto che possono verificarsi anche gesti come lo stupro di Rimini. Eh, non so se avete capito. Per metterla proprio semplice semplice, terra terra, era una critica politica. Un'alta critica politica. E noi, stronzi, non l'avevamo capito. Vigliaccheria lessicale, si potrebbe definire. Eppure, il sorriso politico è tutto nostro. La legge funziona e prima o poi arriva. La profondità delle goffe argomentazioni con cui i lupi si trasformano sempre in agnelli è lo spessore del vostro fare politico. Buon mercoledì. Oh, con un sorriso politico, eh. Buon mercoledì. Grazie.